Start dalla curva dell'Ishok, destinazione al rifugio Salmurano. Inizia ora un tratto pianeggiante. Eccoci arrivati a Casera Valletto. Continuiamo. Inizia. 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 che ne percorriamo adesso. Inizia. 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 No. brava brava brava, in vai e allora signorina babbi cosa ne pensi di questa escursione a rifugio salmurano? ma è leggermente faticoso non tantissimo prima del passo c'è la salita che comunque non dura tantissimo cosa c'è un quarto d'ora di salita poi si attraversa il passo e si scende fino qua al rifugio salmurano poi naturalmente per ritornare indietro sulla stessa strada c'è la salita che pensiamo sia circa 25 minuti non è una pendenza proprio fortissima però credo un po faticosa e poi ho un po di ansia perché rincontrerò di nuovo le capre che sono bellissime tranquillissime solo io solo io ho l'ansia ma non fanno assolutamente niente state tranquilli non è la prima volta che li incontriamo buoni saluti mandi entriamo dello stesso percorso d'andata sempre in ripida salita da qui in avanti spiana un po' quasi arrivati al passo eccoci tornati al passo salmurano ed eccoci qua al passo del salmurano siamo arrivati ci abbiamo piegato meno del previsto pensavamo mezz'oretta invece in 20 minuti abbia fatto la salita però volevo fare una precisazione molto importante le moto a 2000 metri anche no abbiamo incontrato una quindicina di moto tutte in gruppo allora primo disturbate gli animali e noi siamo ospiti qui non siamo padroni quindi poverini già ci sopportano due rovinati i sentieri e i pratti tre inquinate l'aria di montagna quattro vi cresce la panza quindi o venite a piedi o in bicicletta grazie ciao dal passo salmurano rientriamo la curva degli shock brava barbara anche stavolta se l'hai fatta e vai dando un po' ita e Grazie a tutti.